Ho visto dei buoni progressi da parte della squadra, oggi abbiamo messo, era una partita importante per noi perché comunque tutte le partite sono importanti e abbiamo messo quella cattiveria che ci è mancata in alcuni momenti nelle partite precedenti, quindi ho visto dei progressi dal punto di vista del gioco, fase di costruzione ma anche dal punto di vista mentale. Certo i carichi pesano perché siamo all'ultimo giorno di ritiro, abbiamo sempre lavorato con allenamenti doppi, questa mattina abbiamo fatto allenamento, i carichi sono stati elevati ma la squadra sta rispondendo alla grande, sono molto fiducioso. Generalmente queste prime partite quando si arriva a costruire qualcosa di nuovo, si fanno con squadre di diversa categoria, noi abbiamo avuto tre partite importanti, tre partite difficili con tutto il lavoro da fare. Magari se avessimo giocato con squadre di più bassa categoria sarebbe stato diverso, ma così abbiamo visto subito dove bisogna lavorare e c'è stato subito l'impatto forte, insomma l'impatto già da campionato. Sia la partita con Napoli, sia la partita con la Ternana al quarto giorno di ritiro, insomma siamo partiti subito forte, ma a questo me va bene, sono contento perché almeno si capisce subito che Aria tirerà quest'anno. Ho avuto delle risposte positive perché vedo dei progressi, stiamo proponendo qualcosa, nel senso sia la costruzione che il gioco in verticale o il pressing, non è facile subito, soprattutto quando i carichi di lavoro sono alti. Però mi sta piacendo la progressione che la squadra ha, quello che non mi piace è la condizione fisica che in questo momento non c'è, ma quello non mi spaventa. Adesso abbiamo due giorni liberi e poi riprendiamo mercoledì e continueremo il nostro lavoro in grande serenità ma con grande attaccamento. Caricheremo anche la settimana prossima perché è la terza settimana e ci sono ancora due settimane prima della Coppa Italia e poi dalla quarta scaricheremo un po', quindi mi aspetto la settimana prossima di essere ancora, non pesanti, un po' meno, ma continuare il lavoro che stiamo facendo, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, sia dall'approccio ad ogni allenamento, ad ogni partita, ma soprattutto dal punto di vista tattico perché di lavoro ce n'è tanto.